Coach Batocchio, prima della trasferta a Porto Viro, come arrivano i ragazzi dopo la settimana di allenamenti? Ma guarda, è stata una settimana molto piena, molto intensa di impegni, siamo un pochetto stanchi, però onestamente i ragazzi hanno lavorato molto bene, devo dire che stanno continuando a lavorare tanto, a lavorare bene, questa è una cosa molto importante perché è una cosa che sono sicuro che darà dei frutti nel medio-lungo periodo. Ci stiamo preparando a una gara molto tosta, proveremo a dire la nostra, sappiamo che andiamo in casa di una squadra molto forte, che non ha fatto mistero di puntare a migliorare la classifica dell'anno scorso, quando siamo riati terzi, e in una palestra in cui è molto difficile giocare, lo so bene perché è stato il mio fortino per un anno, però devo dire che i ragazzi stanno mettendo tutto quello che hanno e anche qualcosa di più, stiamo migliorando di settimana in settimana, in allenamento stiamo migliorando e pian piano cercheremo di portare questi miglioramenti anche in gara. Ecco per te, giornata dell'ex in quanto coach, come ti proni rispetto alla giornata? Ma guarda, sono in realtà molto contento perché io lì sono stato, ho vissuto un anno molto bello, siamo arrivati difficile ma bello, siamo arrivati terzi, abbiamo fatto un campionato secondo me molto importante, ho lasciato tanti amici e sono contento di rivedere già da sabato e domenica tanti ragazzi che hanno lavorato con me o che hanno giocato insieme a me e tante persone anche fuori perché mi sono trovato veramente bene anche e soprattutto con la comunità di Porto Viro, quindi io lì sono stato molto bene, non l'ho mai nascosto, non lo nascondo ora, è un posto dove onestamente si sta bene e sono contento di tornare. E finiamo con il grido di battaglia? A tutto fuoco, sempre.